Questo mese, ospite di Case Stili Emanuele Filiberto, venite con noi a Ginevra, andiamo a trovarlo! Ciao, sono Emanuele Filiberto, nel prossimo numero di Case Stili scoprirete come vive un principe! Come vive un principe, buonestate a tutti! Come vive, if I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing, it's far beyond the stars... ... Grazie a tutti